Allora, noi siamo, ci siamo, a S.A., a S.A., a S.A., a S.A., a S.A., a S.A., noi siamo i pizzicanti, siamo a Salesini di Moranti nella provincia di Malese, e oggi vi portiamo una pizzica salsina, e anche grazie alla collaborazione del nostro amico Armando, avremo anche qualche atta compriamo, la guardiamo. Vi auguriamo un po' più seminezza e buona pizzica a tutti. Seguiteci sulla pagina dei pizzicanti su Facebook e vedeteci un mi piace. Musica Nessun!